Buonasera a tutti e bentornati in un altro video di Mil Viviendas. Oggi vi porterò a vedere un immobile in una zona di campagna, subito dopo il tavlero. Questa zona si chiama El Salobre e vi mostrerò un appartamento, anzi una casa con giardino privato che proponiamo in affitto a lungo termine con un canone mensile di 950 euro al mese. Purtroppo, anche se è un immobile con giardino, non si accettano gli animali. Entriamo insieme a vedere come è fatto. Ed eccoci dentro questo bellissimo appartamento, anzi questa bellissima casa. Appartamento no, scusate, una casa dentro una proprietà privata, stupenda, tutta su un piano. Come potete vedere c'è questa cucina fantastica con l'isola all'americana, questa è la lavastoviglie. Qui dentro nel centro il piano cottura, troviamo tutti gli elettrodomestici, forno, microonde, frigorifero con congelatore. Questa grande zona della sala è bellissima. Da qua adesso si accederà al giardino che dopo andremo a vedere. Ha l'aria condizionata e due camere da letto. Ogni camera da letto gode della sua cabina armadio, come potete vedere. Tutte e due sono matrimoniali, questa è molto spaziosa e ha il suo bagno privato. Questa è tipo suite, quindi dentro la camera. E ora andiamo a vedere l'altra. Che è dall'altra parte. Questa è la camera da letto. Cabina armadio. La differenza, qui potete vedere la cabina armadio. Questa è un po' più piccina, però è molto spaziosa anche questa. Non c'è l'accesso diretto al bagno, però ce l'ha praticamente qui, accanto. Qui troviamo la doccia, anziché la vasca. E ora usciamo e andiamo a vedere la zona esterna. Usciamo al giardino. Questa è tutta la zona esterna, davvero molto grande. Scendiamo giù, così vediamo il giardino. Possiamo trovare degli alberi da frutta. Qui ci sono dei bellissimi aranci. Guardate che meravigliosa stella di Natale. Erbe aromatiche. E questo è tutto il giardino. Poi c'è una zona, una terrazza, verandata. Dove solamente manca il tavolo e le sedie Per potersi godere sia l'inverno, chiaramente canario, che l'estate. Beh ragazzi, cosa ne pensate di quest'altra chicca? Se anche voi state cercando una casa a lungo termine nel sud di Gran Canaria Scrivetemi alla mia email che lascerò come al solito qui sotto in descrizione. Se vi è piaciuto il video, un bel like. Iscrivetevi al canale e vi passerò tutte le informazioni necessarie. Al prossimo video, ciao ciao!